Prima edizione del festival tipico battipagliese, allora come nasce tale manifestazione e quali solito aguardi che avete intenzione di raggiungere? Il tipico battipagliese nasce da un'idea di Lucio Candela, Domenico Zotto, Liguassa Feste e l'associazione Ad Maiora di Gessomino Megaro e Angelo Gregori. Nasce perché tutti conoscono la mozzarella come prodotto, ma alla fine battipaglia ha tante eccellenze che tutti ci invidiano, perché come si mangia battipaglia non si mangia da nessuna parte e questa sera abbiamo deciso, con l'inaugurazione che abbiamo fatto appena, il taglio del nastro proprio in questo momento, di raggruppare tutti i food battipagliesi che sono l'eccellenza del territorio e metterli nella villa comunale che diventa un contenitore che raccoglie la buona cucina, la cultura battipagliese e la buona musica battipagliese. Qual è il programma della manifestazione, quali sono le specialità offerte e dove e come si terrà? Il programma della manifestazione parte il 9 agosto e termina il 14 agosto con la serata finale. La serata finale sarà un po' più particolare perché andremo proprio a premiare persone che hanno dato tanto per battipaglia. Abbiamo iniziato con queste sette targhe e ogni anno ci riproporeremo sempre persone diverse. Quest'anno sarà premiato Cosimo Mogavoro per aver portato la pizza battipagliese in Italia e nel mondo, sarà premiato Peppe Sposito come regista battipagliese che è molto attaccato al territorio, cerca sempre di fare qualcosa per far conoscere battipaglia. Daremo una targa ai Fratelli Ferraioli che sono i burattinari più antichi d'Italia e sono battipagliesi. Daremo una targa alla Spess che proprio quest'anno ha 60 anni, la targa Zio Rock che nel 1969 inventò la schiacciata. Daremo la targa in memoria del grande Antonio Guarracino, creatore del panettone artigiano e battipagliese. Questa sera ci saranno i Frugio e Band. Da domani ci sarà la cover ufficiale dei Queen e Queen Forever, la notte di San Lorenzo. L'11 agosto ci sarà la Vascover Band che ha vinto tale e quale show quest'anno. Il 12 agosto Medina Band, serata dedicata al Partenopeo. Il 13 agosto la notte della Taranta con i Tamorrasia. E il 14 agosto ci sarà un gruppo di Rock e Bill anni 50, per la prima volta a battipaglia. Tutte le sere ci sarà il DJ7 in seconda serata. In più ci saranno gonfiabili per bambini, giochi per bambini, tornei di calcetto, tornei di playstation. C'è tutto, bisogna solo venire a tipico battipagliese.